Benvenuti nel mondo degli orologi Glasut Original. Glasut Original è un marchio di orologi di lusso tedesco, fondato nel 1990 nella città di Glasut, in Sassonia. La città di Glasut è stata storicamente un importante centro di produzione di orologi, con una tradizione che risale al XIX secolo. Glasut Original è noto per la sua attenzione per i dettagli e la qualità dei materiali utilizzati nella produzione dei suoi orologi. Il marchio utilizza solo i migliori materiali, come acciaio inossidabile, titanio, oro e platino, per creare orologi di lusso che durano nel tempo. Inoltre, tutti i movimenti degli orologi Glasut Original sono prodotti in house, il che significa che ogni singolo orologio viene creato internamente, dal design alla produzione. Tra i modelli più famosi di Glasut Original troviamo il modello Senator, caratterizzato da un design elegante e raffinato. Questo orologio è disponibile in diverse varianti, tra cui il modello Senator Cronometer, dotato di un movimento certificato COSC e una riserva di carica di 70 ore. Glasut Original è anche noto per la sua produzione di orologi complicati, come il modello Grande Cosmopolite Tourbillon, un orologio dotato di un tourbillon volante e di una complicazione di indicazione del fuso orario mondiale. Questo orologio è stato creato con un'attenzione particolare per i dettagli, con una cassa in platino e un quadrante elegante e raffinato. In sintesi, Glasut Original è un marchio di orologi di lusso tedesco noto per la sua attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati nella produzione dei suoi orologi. Il marchio produce orologi di alta qualità, con movimenti prodotti internamente e un design elegante e raffinato. Se stai cercando un orologio di lusso di alta qualità, Glasut Original è sicuramente un marchio da considerare.